Ed è escludere nel modo più assoluto che vi siano state condotte distrattive degli amministratori in danno della società Winget. La difesa di Nino Pulvirenti, Stefano Rantuccio e Angelo Vitaliti, finiti nei guai per il crack della low cost catanese, ha spulciato le carte dell'inchiesta dei PM catanesi e dà la propria versione dei fatti. Gli avvocati ricordano che il concordato preventivo di Winget si è potuto realizzare solo grazie all'apporto economico determinante di Finaria Spa e di Antonino Pulvirenti. Nell'ordinanza però c'è dell'altro come le intercettazioni fra alcuni indagati in cui si rivelerebbe la sopravvalutazione di tutte le rimanenze del magazzino della Winget, praticamente uno dei perni su cui si fonda l'impianto accusatorio dei PM Sorrentino, Tasciotti e Natale. Dalle carte emergerebbe anche il ruolo strategico nella gestione della società da parte di consulenti tecnici ed esperti, anche stranieri, tutti finiti nel registro degli indagati. Intanto le associazioni di consumatori che dopo lo stop ai voli del 2012 hanno iniziato la battaglia legale per i rimborsi dei passeggeri hanno già preannunciato che si costituiranno parte civile nel processo.